Sono 83 i guariti in tutta la provincia, boom di guarigioni anche a Caltanissetta, 56 soltanto nel capoluogo. Nello stesso tempo si contano ancora due cessi nelle ultime 24 ore, un paziente di Caltanissetta e uno di San Cataldo. Intanto la percentuale dei contagi, siamo a 665 positivi a Caltanissetta, non fa abbassare l'indice di positività che al momento si attesta allo 0,028, superiore allo 0,25 che è il dato giusto per richiedere alla zona rossa. Dunque c'è aria, anzi quasi certezza di proroga di zona rossa, aumentano i ricoveri. 77 sono i ricoverati in malattie effettive tra Caltanissetta e Gela, 11 in terapia intensiva. I nisteni sono 49 ricoverati in malattia effettiva per una disponibilità di 90 posti letto, 4 in terapia intensiva per una disponibilità di 28 posti letto. A Caltanissetta è zona rossa da un mese, il 16 mazzo per gli esercizi commerciali, il 15 per le scuole.